Dopo una notte di ricerche ci ritroviamo qui ad aggiornarvi sul rapimento del noto attore Jerry Calat. Oh madonna! È uno scherzo, vero? Lui ci salverà. Perché dobbiamo rapire Jerry Calat. Metti questo in testa. Oh, oh, oh! Zitto! Adesso ho capito, voi siete una specie di scherzi a parte dei poveri. Eh, sì, sì. Aiuto! Il rapito è mio! È mio! Io voglio fare questo appello ai rapitori di Jerry. È una brava persona, è un uomo buono, un po' birichino, magari. Jerry Calat sta scappando! Jerry! Veramente geniale l'idea del sequestro, eh? Noi abbiamo Jerry Calat. Non le rimane che pagare il riscatto. Tenete però che me ne ha fatte di tutti i colori. Vabbè, ma non è se a Jerry ha. Mio padre è un taccagno. Sto chiamando. Io voglio Jerry vivo, sano e sano. Adesso vado di là, che gli taglio un orecchio. Basta! Rino! Oh, c'è posta per noi! Aiuto, sono Jerry Calat. Oh, Jerry Calat! Oh! Jerry! Dove sta Jerry? Ma noi ci conosciamo. Jerry Calat! Ho saputo cosa è riferito in questa città. Da Ciro a Mercellino fino a Sanità. Ma con uno capo non teneva niente a fare. S'ha una rubata, Jerry Calat!